Ciao Bufi, ciao Nerone, ciao Bel E' di, di saranato, cercar e promerar Usar, di saranato, el amore di Dio salvato Vieni, Spirito Santo, vieni, Consolato In fiamma il Dio cuore e l'amore di Dio salvato Vieni, Spirito Santo, vieni, Consolato In fiamma il Dio cuore e l'amore di Dio salvato E' l'amore di Dio salvato Cari ascoltatori di Radio Maria, siamo collegati in diretta dalla cappella Della sede territoriale della Radio Maria Medio Capitano Assamassi in Sardegna La sede è stata inaugurata il 29 maggio 2011 da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Mani In questa occasione, ricordando il primo anniversario dell'apertura della sede Con noi collaboratori dello studio mobile della sede fissa territoriale Ci troviamo assieme ad alcuni amici ascoltatori di Radio Maria La sede territoriale di Radio Maria Medio Capitano affianca il servizio svolto già da vent'anni Dallo studio mobile per i collegamenti e si propone di essere un punto di riferimento Per la promozione e la diffusione dell'attività di Radio Maria qui in Sardegna Per questo con l'aiuto di collaboratori e volontari portiamo avanti questo servizio Apprendo questo ufficio che è anche luogo di incontro e di preghiera In particolare ogni venerdì sera ci troviamo per seguire in diretta video La Catechesi giovanile di Padre Livio Pregheremo con voi il Santo Rosario a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa e le Lodi Ci guida in questo momento di preghiera Don Massimiliano Puggetto Parroco di Valermosa, fondatore della comunità Apostoli di Maria e capelano della Polizia di Stato Affidiamo al Signore per intercessione di Maria l'attività di Radio Maria Preghiamo in particolare per il Santo Padre Benedetto XVI Per tutte le situazioni difficili e per le famiglie Ricordiamo in particolare i sofferenti nel corpo e nello spirito O Dio, vieni a salvarmi Signore, vieni presso il piedeo di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Com'è, nel Piccino, vuoi per sempre i secoli e i secoli e i secoli rai Il primo mistero doloroso Contempliamo l'azione e l'amnia di Gesù nell'ordine di Gesù Padre nostro che sei legge Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Contento, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, piena di grazie al Signore con te Buongiorno 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 Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi Precatori Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi Precatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi Precatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi Precatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazie al Signore con te ifero il Signore con te Ave Maria, piena di grazie al Signore con te Domino, Comie ad천J Gesù perdona le nostre corphe, preservaci dal fuoco dell'inferno, torna il cielo con le aree, specialmente le più disordiose della tua vita si ricorda, regina della pace. Il secondo mistero doloroso è che la faccia l'azione di Gesù e la tua. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo opposito. Lasce oggi lo sognare il quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci vorrebbe l'azione, ma non è il resto del mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le doni, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Papa, il Signore è con te. Ci vediamo per essere in premia, il Signore è con te. Lo tanto sempre sia. Salvissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per i tuoi peccatori, nel terzo mistero dolorosa, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi peccatori, ma che sei l'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.